Rallegramenti, vuoi invitarmi all'inaugurazione del tuo grattacielo? Ma non so... Sì, accetta! Sì, sì, Larry. Bene, d'accordo. Sì. Sì, certo. Verrò, venerdì. Sì, Larry, venerdì sette. Come? In abito da sera? Se vuoi. Che cosa dici? Sarà un'inaugurazione non comune. Come? Sì. Sì, sposò sempre se si, Germantima. E tu e io divorzieremo. Da buoni amici. Certo, da buoni amici. Sei sempre d'accordo circa il nostro piccolo patto? Sì, sì. Dieci milioni subito. Insomma, subito, voglio dire... Ah, è così. E dieci milioni il giorno della firma. Un po' caro, ma insomma... Chi vivrà vedrà. Hai sentito chi ha detto? Chi vivrà vedrà. Beh, che c'è, è un modo di dire. Ma certo, sono sola. Con chi vuoi che sia. Credevo che qualcuno stesse all'altro microfono. Succede. Allora, venerdì. Ciao, cara. Arrivederci. Allora, venerdì. Grazie a tutti.